Bella ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono alle ferrate 25 e lo diciamo su Outlast, settima parte, ok, continuiamo, ho lasciato un attimo a fare il Super Meat Boy perché voglio finire la preparazione Outlast perché ve lo voglio levare e posso fare così, dove siamo, perché siamo qua, scusate ma sono un po' raffreddato, quindi non sarò attivo come gli altri giorni, intanto abbassiamo il volume, ecco, siamo ancora qua, amico, qualche volta è morta, oddio, no, 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 non mi ricordo di sta cosa, che c'è, che cavolo stavo prendendo in contrario, c'è nessuno, io passo, io sto passando, io passo, io ripasso, ok, bellissimo, è un po' tutto molto bello, fatemi un filo da qua, ok, non si passa, evidentemente non si passa, io sento qualcosa, io sento qualcosa, io sento qualcosa, allora, mi sembra di aver già fatto sto pezzo, provabile, oh, si, chi c'è, questa mi ricordo non sapeva, questa neanche, è la ragione di pianotare alla donna maschile, eh, bel problemino, troppo vivo, troppo vivo, troppo vivo, troppo vivo, troppo vivo, devo andare a fare pipì, devo andare a fare pipì, devo andare a fare pipì, oh, devo giocarlo proprio adesso, a trossi da partì già oddio cioè qui show l'enichimista non ci faceva niente confronto ok le scende sono visite ai minori di 18 anni io ci vedo non mi ricordo quanti anni ho a mio guernica che mi aspetta il sonno e aspettiamo tutto il giorno così approssimatamente se mi fai passare di qua vuol dire che devo fare qualcosa qua che non vedo ah ok forse ho capito niente chi sei carta di identità amico ok probabilmente di qui non si passa oh ma lì c'è lol intelligenza mentale oh salta sopra dai oh si finalmente si passa di qua basta di qua so che stiamo andando a trovarci guai amici miei lol dai veloce veloce oddio oh merda oddio oddio oh no merda mamma mia siamo morti eh cosa ti appassi mamma mia ho l'intelligenza mentale di personaggi di percentuali di autlaser Recently fatti ammazzare fatti ammazzare fatti ammazzare fatti ammazzare mamma mia come facciamo oh merda merda veloce tu apri sta porta La stupidità dei personaggi di Outlast Non ci vedo più Oh apri Merda Robbicati amico Merda 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 No No Che pizza Merda Merda Muoviti Muoviti Diventando pazzo Muoviti Mi sto incavolando Personaggio Mette un'alza Mette un'alza Da maledenti Non me ne frega un rider Un rider Un rider Mi capito Salto Va bene Salto Manno mia Manno mia Quanto si è stupido Come che cavolo faccio qua Oh Man Che cavolo cool mani 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 oh merda ti togli grazie oh no mi devo girare mi devo girare oh chi è questo? è nudo non possiamo girarlo non possiamo girarli oh cavolo quel tizio non ce l'ha ho veramente paura oh ti togli per favore togliti anche tu non ci vedo eh che cavolo outlast di merda bene bene un corno bene un panna corno va bene ecco fantastico fammi te mi pensare ti togli per un demente è la vita è bello sfondalo 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 buondi ah come stupido merda oddio era così facile che bello che sei amico io ho paura io ho paura io ho paura no se sei un dottore direi di farti un trattamento a faccia perché sei davvero brutto amico ok dove stiamo andando sì per andarmene oh fammi uscire chi è sto merda mi sta incavolando che brutto che brutto che sei ho fatto un trattamento mamma mia è bellissimo sei sembra non cac non cac non cac è più più bello però diciamolo freddore non è questo che fa gli esperimenti vuol dirmi che gli hai tagliato la lingua gli hai tagliato la lingua c'è gente che dice per scherzare ti taglio la lingua ma questo qua non scherza per niente oddio no la mia telecamera la mia telecamera c'ha le chiave di fuori che devo fare ah padre martine è di fester giò ehi le parolacce no non mi vorrei tagliare la testa amico ok sarà la scena più brutta che io abbia mai visto no no non farlo sarà la scena più violenta che voi abbiate mai visto cosa vuoi fare oddio preparati preparatemi un continuo di outlast senza due dita ok preparatemi un continuo di outlast senza dita due dita che schifo la scena più macabra che io abbia mai visto R 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 è questo sto facendo sbagliato è bellissimo R qual era non mi ricordo più niente è questo R 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 che schifo ok perché questo direi di chiudere quel video perché boh ma vedo a quanto siamo arrivati di video perché non lo so perché ok direi di chiudere il video se vi è piaciuto il video mettete mi piace, mettete mi piace la campagna lo faccio e i book che troverete sempre sotto in descrizione per oggi tutto bella